Prima di fare la polemica fai la domanda, poi magari ti lamenti dopo. Sono guadagnati a mese in regione, perché hanno detto che avete abbassato gli stipendi e io non ho visto una busta paga. Perché magari mi siete inventati, non mi siete, si sono inventati delle indennità, erano 11.000 euro a tiero, vorrei sapere con precisione quanto guadagnate e comprese le indennità. Con precisione. E magari un giorno, perché qualcuno di voi del 5 Stelle aveva già promesso che sarebbe venuto con la busta paga e io la busta paga non l'ho vista. Va bene Daniele, domanda precisa. Gaetano, persino Roberto di Montebriazzo. Va bene. Ciao Daniele, ascolta in tv cosa ti risponde il nostro ospite. Sembra che ci siamo messi d'accordo, per me è ancora un punto forte. Allora, per vedere le buste paga nostre, prima della nuova legge, dopo la nostra legge, se lei va sul mio sito internet, per esempio personale, nella parte trasparenza... Com'è l'intitolazione? www.stefanobuffagni.it, nella sezione trasparenza, lei trova le buste paga reali che riceviamo, poi vede la busta paga virtuale che è quello che noi ci teniamo, i famosi 5.000 euro lorti, poi trova le note spese dei soldi che ho speso eventualmente per l'attività normale. Quindi lui vede veramente la busta paga, io se vuole la prossima volta vengo, la stampo... Questa ce la notiamo così la facciamo vedere fisicamente... Sì, 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 ma non c'è problema, ci sono. Poi, allora, lo stipendio, fino a giugno 2013 gli importi che ricevevamo erano nell'arco dagli 11.000 ai 12.000 euro. Noi del Movimento 5 Stelle ne tenevamo 3.000 e il resto lo davamo indietro, tant'è che il 22 maggio 2014 abbiamo fatto il Restitution Day in Piazza Duomo, Io personalmente ho bonificato alla Regione Lombardia in un anno di lavoro 54.000 euro, quindi non stiamo parlando proprio di noccioline. Dopo la legge, dopo la nuova modifica della norma, da 11.000 barra 12.000 si è passati a 7, 8, 8 e 2, che sono comunque tanti soldi, però rispetto a prima, già soltanto con l'entrata del Movimento 5 Stelle in istituzioni, un po' di pressione sul tema c'è stata. Si sono abbassati gli stipendi, noi del Movimento 5 Stelle manteniamo l'impegno che avevamo preso dal primo giorno, quindi teniamo sempre quella somma e il resto lo ridiamo indietro, non abbiamo cambiato di una virgola. Questo credo di aver risposto dettagliatamente alla domanda del signore, poi potrà richiamare io. E poi comunque un punto stefano buffagni.it li trova anche la testimonianza scritta di quello che ci sta dicendo. Sì, perché noi l'avevamo detto e lo facciamo. Poi su lombardia5stelle.it invece trova tutta la situazione di tutti i nove consiglieri del Movimento 5 Stelle, vede quanto hanno ricevuto, quanto si tengono e quanto ridanno indietro, per una questione di trasparenza. Questa è in formato digitale ovviamente la tua busta paga. Allora facciamo vedere il nome, così almeno siamo sicuri che sia la tua. Adesso non la trovo, insomma in ogni caso, dov'è, dov'è? Buffagni, Buffagni Stefano, eccola qua, Buffagni Stefano, mettiamo quella qua. E poi in fondo, che è la cosa più importante, il netto in busta, cioè 8286,39. Questo è il netto, ok? Che riceviamo sul conto corrente. Che ricevete sul conto corrente. Noi teniamo la parte che avevamo detto e il resto lo ridiamo indietro, quindi è tutto online, non abbiamo nascosto niente, l'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Lei dove vive signora? A Paderno Vignano. Quindi lì è già scattata la tasi, lei oggi... Ma dove pagare oggi la prima là di 50 euro? Io ho 12 euro in tasca e devo tirare fine a fine mese. No, sono in una casa privata, pagano 340 euro di affitto, pagano 98 euro di metano e 30 euro di bici. Ho capito. Mi prendo 638, lei da lei cosa devo fare? Ho chiesto l'aiuto al comune questi mesi e mi hanno passato dei buoni per mangiare e per la permacenza. Ma di casi così, a noi le chiamano veramente tutti i giorni ed è lo sconforto totale nel dovere prendere atto di una situazione che a tratti è contraddittoria. Perché la signora diceva ma come mi danno i soldi per campare, per il buono per mangiare e poi però mi chiedono non so quanto, 150 passa euro per la tasi. Allora dove sta la giustizia sociale in questo paese? Evidente che è stato perso l'equilibrio sociale, ovvero è aumentato il distacco tra le persone che stanno bene e le persone che stanno male, questa è una cosa gravissima. Nello specifico io credo che il discorso tema rifiuti sia anche questa una tassa da rivedere, noi l'abbiamo proposto in diversi comuni, ovvero di cambiare il sistema delle tariffe dei rifiuti, ovvero farla pagare in base al consumo, ovvero si chiama tariffa puntuale. Cosa significa? Se io consumo tanta indifferenziata pago tante tasse, se io faccio poca indifferenziata e quindi faccio maggiore raccolta differenziata pago meno tassa sui rifiuti. Questo va a aiutare sia le persone come la signora sia le attività commerciali perché spesso le attività commerciali pagando la tassa sui metri quadrati della loro attività sono in difficoltà. Questo sistema lo abbiamo già proposto in diversi comuni, in alcuni comuni è in sperimentazione, uno su tutti, ad esempio nel comune di Lissone è partita la sperimentazione in una piccola zona, funziona con dei microchip all'interno dei sacchetti dell'immondizia e noi possiamo essere un'innovazione. Questo va a incentivare la raccolta differenziata che quindi è un valore aggiunto per la nostra società e va a diminuire i costi. Diventa un incentivo in questo caso. Assolutamente perché ci siamo resi conto che le persone non gli basta il bello obiettivo sociale, hanno anche bisogno di un vantaggio in termini economici e quindi abbiamo fatto questa proposta che sta funzionando, è un sistema che non si può applicare da oggi col domani, però è un sistema che funziona. Bisogna mettersi d'accordo con chi ritira la pattumiera che va a far passare un chip e registra che l'hai consegnata una certa quantità, però noi crediamo sia una cosa fattibile per tutti i comuni, perché se il nostro sistema di rifiuti zero è un indirizzo a cui tendere, è un obiettivo di visione futura, la tariffa puntuale è un sistema che si può applicare e quindi possa essere un inizio. E' chiaro che non va a parare sulla situazione della Tasi, che invece è un grosso problema secondo me, perché la Tasi è praticamente diminuiti i trasferimenti dello Stato verso i comuni e i comuni a quel punto non sapevano più dove prendere i soldi e lo Stato cosa ha detto? Vabbè, vi mettiamo altre tasse. Questo è il controsenso, perché si sta praticamente abbassando, cercando di abbassare il debito a livello centrale, ma andando fondamentalmente a farlo pagare di nuovo i cittadini. E questo, ripeto, è un controsenso, motivo per il quale noi avevamo chiesto di bloccare questo limite del 3%, di poterlo sforare in fase di investimento, in modo tale che tante spese uscivano dal cumulo, perché se vengono fatte delle spese per investire è evidente che non devono andare a pesare sulle casse dei cittadini, quindi noi le proposte le abbiamo fatte.